Beh, sicuramente sabato sarà una partita molto importante perché loro come noi vengono da un momento particolare e entrambi cercheremo di fare una grande partita e riportare a casa i tre punti, soprattutto noi che giochiamo davanti al nostro pubblico. E come ho detto prima, è un momento un po' particolare della stagione ma credo che alla lunga i valori vengano fuori e il lavoro che facciamo tutti i giorni con il mister è la nostra forza per cui sicuramente alla lunga i valori che ho detto prima usciranno e diranno la loro.